Il mio nome è Speedy, sono il prossimo super cane di con... ...segna l'ampo dell'Artico. Nessuna promozione per te quest'anno. Sei una piccola volpe artica che non può trainare una slitta così pesante. Sta succedendo qualcosa di terribile nell'Artinet. Correte tutti! Chiuso per allagamento? Ma non sei preoccupato? Sono qui per distruggere questa città! Scatenerò il potere di un antico gas! Scendidelo su! Che puzza! È come se il pianeta avesse fatto la cacca! Dobbiamo unire le forze! Anch'io ci sono! Ne sei proprio sicuro? Che vuoi che succeda? Sei impazzito! No, furbo come una volpe! Ambra Angiolini e Jade. Stefano De Martino e Speedy. Yuhuu! Stefano Fresi e Pibbi. Vinicio Marchioni e Lemmy. Cosa potrebbe mai andare storto? Arrivano! Sono cieco! Non sono più cieco! Arctic, un'avventura glaciale al cinema. Ciao! Siete pronti per Arctic, un'avventura glaciale? Il mio personaggio è Jade. È stato divertente! Il mio personaggio è Speedy. Che ne pensate, eh? Io do la voce a Pibbi. E sei proprio sicuro? Yeah! Il mio personaggio si chiama Lemmy. Anch'io ci sono! Arctic, un'avventura glaciale, sostiene il progetto Save the Arctic di Greenpeace. Magnificio! Devolverà l'intero incasso del primo giorno di programmazione proprio a Greenpeace, per difendere la casa degli orsi polari e il pianeta dai cambiamenti climatici. Io e Speedy vi aspettiamo al cinema con Arctic, un'avventura glaciale. Arctic, un'avventura glaciale. Al cinema!